In questa video guida parliamo di zanzariere elettriche. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Una zanzariera elettrica è un utile strumento che ci permette di ridurre drasticamente e senza alcuno sforzo il numero di zanzari nell'ambiente nel quale lo posizioniamo. Le zanzariere elettriche, generalmente, sono costituite da una gabbia di ferro e plastica al cui interno si trovano delle luci viola o blu e una maglia metallica elettrificata. Le luci fungono da esca per le zanzare, che si avvicinano ad esse e restano folgorate dalla maglia metallica elettrificata che si trova all'interno della gabbia della zanzariera elettrica. Generalmente, le zanzariere elettriche vanno alimentate attraverso una presa della corrente. Esistono, però, anche dei modelli portatili adatti per i pranzi all'aria aperta. Grazie a tutti.